Un applauso per essere incoraggiata E' convinta che per trasmettere emozioni non bisogna avere per forza una grande estensione vocale Poi lo facciamo dire ai nostri maestri Canta Voto a Perdere di Noemi, Esther Gugliotta Quello che hai detto adesso sarà preso in considerazione dai nostri giurati Perché secondo te non bisogna avere una grande estensione vocale? Cosa serve invece maggiormente? Serve il cuore, serve anche un timbro particolare A me servono soldi se vi può interessare Esther Gugliotta Esther Gugliotta vuoti a perdere dirige maestro Faranda della birra Triscele Vuoti a perdere Vabbè poi ve la spiego questa Sono preso per me stessa Sono vuota a perdere Sono diventata grande Senza neanche accorgermene Ora sono qui che guardo Che mi guardo crescere La mia cellulite e le mie nuove consapevolezze 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 Quanti giorni sono stati Quanti giorni sono stati Sono stati Quanti eterni Quanta vita che ho vissuto Inconsapevolmente Quanta vita che ho buttato Che ho buttato via per niente Che ho buttato via per niente Che ho buttato via per niente E ti dirò come mai E gira ancora per strada Che ho buttato via per niente Vado a fare la pena Che ho buttato via per niente Finora stampe biglietto Sonia da me stessa Sono vuota a perdere Sono diventata questa meinerica bugs Ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. E sai, e ti dirò come mai, e gira ancora per strada, vado a fare la pena, ma non mi fermo più. Mentre vado a cercare quello che non sai più, perché il tempo ha cambiato le persone. Ma non mi fermo più, mentre vado a cercare quello che non sai più. Perché il tempo ha cambiato le persone. Non è lenne a me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Ester Gugliotta, penultima concorrente in gara.